Il falò di Martina e Giampaolo Fermati, ti prego fermati! Temptation Island ricomincia con il travagliato falò di Martina e Giampaolo La puntata andata in onda il 30 luglio si era conclusa con la clamorosa gaffe della fidanzata e l'abbandono del falò da parte di Giampaolo Ero sicuro di uscire da qui con le valigie per andare in una casa nostra urla Giampaolo Hai perso la cosa più bella che potevi avere? Facevo il cretino, ma non ti ho mai mancato di rispetto Martina, infatti, negli ultimi giorni si era lasciata un po' troppo andare con il tentatore Andrei E dopo abbracci e carezze i due si erano baciati appassionatamente nel corso del loro weekend romantico Il ragazzo aveva lasciato il confronto tra la rabbia, e il risentimento dopo che la propria fidanzata l'aveva chiamato con il nome del single Andrei Martina gli era corsa dietro cercando di spiegare la situazione. E così, la finale andata in onda il primo agosto, ha finalmente svelato com'è andata a finire l'esperienza della coppia nell'Isola delle Tentazioni I due tornano al falò, e vedono insieme i filmati della loro ultima settimana di permanenza nel villaggio Così, il ragazzo scopre il tradimento di Martina che, durante il suo weekend da sogno, ha baciato il single Andrei . Giampaolo fatica a trattenere i propri sentimenti di rabbia, ma la sua fidanzata si giustifica. Sai qual è la differenza tra me e te? Tu è come se l'avessi dato un bacio, perché ti sei trattenuto, invece io l'ho fatto . A differenza tua io ho avuto il coraggio di darlo un bacio, tu ti sei spostato si giustifica alla ragazza . Non c'è differenza tra me e te. Io sono entrata qui sicura della nostra storia . Qui ho fatto un percorso, e ho capito, che voglio un uomo, e non un ragazzino . Che ha solo scuse . Tra di noi non c'è proprio più niente da fare, tu pensi ai tuoi 24 anni, io voglio una famiglia . La ragazza fa riferimento ai video in cui Giampaolo si mostrava molto preso da una single, tanto da passare una serata mano nella mano insieme a lei . Il ragazzo, però, le dimostra che le sue intenzioni erano molto diverse, e le consegna un foglietto di carta, preparato all'inizio della loro avventura, con su scritto patata, mi vuoi sposare? . Il 24enne spiega subito il suo gesto. Sono venuto qui per avere delle risposte su di me, ma non ho mai messo in dubbio. . Martina, però, è molto convinta delle sue intenzioni? Io non ci voglio stare con una persona che mi fa fare queste figure di merda . Filippo chiede a Giampaolo, se vuole tornare a casa con Martina purtroppo no, risponde lui anche per me no fa ecco Martina . Mentre si salutano Giampaolo confessa. Ti amo tanto! Martina chiede di incontrare Andre prima di lasciare Temptation Island, il single le regala un girasole, poi si abbracciano, volevo ringraziarti di tutto dice Martina hai fatto di tutto per farmi stare bene . In un altro contesto avrei approfondito la nostra conoscenza, ma ora ho solo bisogno di stare sola . . . . .